Ehi la ciurma, io sono Mazzatese e benvenuti in questa terza puntata di Imperator Rome con il nostro Egitto. Allora, nell'ultima puntata ci eravamo lasciati con una guerra in corso tra i nostri baldi egiziani e il regno di Frigia, che purtroppo è un bel ciccione regno che vuole darci filo da torce, però siamo riusciti a bloccarli in una situazione di stallo qua e abbiamo una situazione abbastanza affrontabile. Volevo vedere se per caso qua non ce lo accetterà mai, perché cos'è che dice? Ah, non per tanto però, perché si andrà poco in guerra effettivamente. Ok, ok, perché si andrà poco in guerra, però magari, scusa, se chiedessi solo questi due? No, neanche. Solo questo? No, neanche. Solo questo? No, neanche. Non mi darebbe proprio niente, ora come ora. Però, no, aspettate un attimo, allora, quali sono là? Ah, io ho bisogno di recuperare il main power in un modo incredibile qua. Abbiamo preso parecchio main power con questa storia. Però questi, no, non prendono, a te visto se stanno qua, mi sa che devo prenderli là. E c'erano degli altri che stavano scappando, ah ok, stanno arrivando, stanno tornando in là pian pianino. Ah, li tengo là, questo magari, ecco, magari gli metto un generale qua così sia più tranquilli. Ah, questo è superforte, ma cos'è che è? Ok, non mi interessa. No, è molto buono questo, non è neanche... Oh, sì. Ci serviva proprio un generale di questa stazza. Stanno arrivando delle truppe della Ionia. Allora, io direi che ci conviene... Adesso che abbiamo le imbarcazioni, scusate, uniamo questa flotta qua e partiamo con le nostre imbarcazioni per cercare di ottenere un pochettino di... Ah, questi sono... Alleati o nemici? No, sono nemici questi, il Dodecaneso. Dodecaneso sono in guerra con noi, eh? No, sono in guerra contro la Frigia? Ok, è stato clean, ma scusate. No, ok, non è il Dodecaneso. Dodecaneso è il mio... Sottomesso, il mio vassallo, scusate. Che hanno quelle 5.000 truppe del Meng, che non saranno nessuno e che schianterà brutalmente là. Forse no, invece. Grande! Grandissimo! Ma bravissimo! Hai più intelligente di questo? No, no, aspetta, non andare là. Vai qua, perché sennò ci prendiamo un attrito della morte. Allora, prendiamo un attimo le nostre imbarcazioni. Uniamo. Tra l'altro il problema è la Frigia a cui cavolo è messa adesso. Allora, non ha più Manpower. Ed è molto buona questa cosa. Però ha un sacco di corti e ha... Verosimilmente più tre remi di me. Però se non ha Manpower, vuol dire che possiamo andare molto più pesante. Andare a pigliare dall'altra roba. Il prossimo forte qua dov'è? Ehm, qui. A tiro. Possiamo muoverci verso tiro. Non hanno Manpower. Vuol dire che tutte le truppe che perdono non possono andare a ripigliarsele. È vero che noi stiamo perdendo truppe. Ma in un paio di mesi adesso che arrivano le imbarcazioni là, dietro i remi, dovremmo essere abbastanza tranquilli. Stiamo anche guadagnando soldi, più 13,38. Buona parte per... Ah, anche per il commercio. Stiamo guadagnando parecchio dalle lotte commerciali. E non è una cattiva cosa. Allora. Direi che possiamo... Possiamo avanzare... No, scusa. Con le armate. Prendiamo un pochettino di attrito. Ok, ma adesso iniziamo a riprendere gente. Quindi direi che... Un po' possiamo affrontarlo. Quanto facciamo? Guadagniamo 300 uomini e perdiamo 420. Non è grave. Non è grave. Vuol dire che perdiamo 100 uomini, 100 di manpower al mese. Che non è ingestibile. Questi qua possono starci? No, ci dà un po' di attrito. Ehm... Ops, 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 ops. Ehm... Ah, per il governatore. Ehm... Eh, mi spiace. Ma qua è meglio picchiare il governatore. Perché sennò ci prendiamo malo su della provincia. Oh, 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 oh. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che qua mi arrivano in faccia i tizi della frigia. E invece no? E invece sì. Aspetta. Vada. Ma si sono buttati su una cosa che era già persa. E' vero che ci fanno perdere un sacco di gente così. Non è una buona cosa. Però loro sono messi molto peggio di noi. No, però aspetta. Io farei che smizzarla. E' vero che... Ah, ormai è già partito. Porca miseria. Oh, dai, 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 dai. C'è qualcuno che sta tornando indietro qua, eh. Allora, ne portiamo un po' in qua. Allora, teoricamente, da qua non potrebbero passare. Ma hanno il passaggio da quegli altri, eh. Vediamo dove vanno. Eh, si tornano indietro, secondo me. Vengono in qua per pigliarci le spalle. No. Non so se mi capire, assaltarli. Forse sì, pigliarli così, schiacciarli. Se ne vanno? No. Ah, scendono là sotto. Vabbè. Ok, li pizzichiamo. Ottimo. Ottimo. Allora, io proverei a salire un pochettino più in su, senza prendere troppo trito. Magari stiamo prendendo comunque parecchio trito. Però... Non in modo esagerato, dai. Vabbè, ho perso parecchia gente, ma... Forse ora... No, aspetta. No, aspetta. Ah, possiamo... Scusate un attimo. Frigian, San Maria e gli chiederei anche Frigian, Filistia. Non me la danno. Per meno uno, però, comunque. Tiro quanto è più in su? È tanto più in su. Potrebbe essere un azzardo che potrei pagarlo molto caro. Di andare fino lassù. No, direi che difendiamo l'elenismo. Come religione. Che poi forse è una cavolata, eh. Però... Abbiamo un sacco di cose qua. C'è gente che ha perso... Allora, quello... Ciao. Vabbè, mettiamo questo che non è male. Il mio regnante non ha una moglie, ma non so come fa a dargli una moglie. Eh, manpower. Abbiamo bisogno di più manpower. Possiamo prendere due invenzioni, ok. White piece, imminent. Quanto manca? Siamo a metà. Ok. Ok, ci sono delle uniti. Vabbè, non è grave il discorso. Quasi però è tutto stato rito, boh. Ah, scusate. Facciamo che... Ce la tentiamo tantissimo. Proviamo? Perché questo prende il tuo strato? 0,90. Stai qui qua, prende il trito, sì. Arsinoe sta cercando il trono. No, vabbè, vediamo cosa succede. Stiamo un attimo tranquilli. Però, aspetta, le mie navi devono stare qua a tiro. Aspetta, vabbè, qua no, non sono in guerra con me quelli. Non ci sono gente straniera qua in giro, vero? Perché non ho il... Ah, ok. Oddio, invece sì. Invece mi stanno pigliando qua. Cavolo, ho fatto bene a controllare. Porca miseria. Poi ho dei forti? No, su tutta la zona fuori controllo dei forti. Devo far tornare questi a marce forzate qua. E questi cosa faccio? Scopro là? Vada. Facciano il pieno pazzo. No, però là si prendono un sacco di attrito. Qua prendo attrito, sì. Oh, scusa, facciamo così. E gli altri sono qua più vicino. No, loro. Mi mando qua. No, non so cosa ho cliccato. Oh, 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 oh. No, 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 no. Aia. Kaizo, ho sbagliato tutto. No, forse... Ah, no, 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 questi sono miei. Niente, ci moriamo malissimo. Quanto è di percentuale? Meno 35, non lo prendiamo. Non lo prendiamo a tiro. Mi sa di no. Ah, uno viene ferito. Ok, allora aspetta un attimo. Si toglie le marce falzate perché altrimenti ci pigliamo del malus in... Aspetta un attimo, andiamo a vedere qua com'è la situazione. C'è della gente in giro o no? Sono questi che mi stanno prendendo dalla città ma non mi riferisco a niente perché non è un forte quello. Però sono in 9000, potrebbero darmi parecchi guai con quegli altri. Qua ci sono questi altri che devono ripigliarsi. Se vado qua lo picchiavo tantissimo. Scappa. Ok, non riesce più a scappare. No, 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 crepio. Fretta, fretta, fretta. Porca miseria, ce l'as fatto a tutti e due. Ce l'as fatto a tutti e due, porca miseria, ce l'as fatto a tutti e due. Come ho gestito male i tempi, come ho gestito male i tempi. Porca miseria, abbiamo perso la guerra È andata Pace, 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 pace No, aspetta Cavolo, non abbiamo più abbastanza world score Cavolo, come c'è andata male Porca miseria, voi andate in qua, in qua, in qua, in qua Tornate indietro, tornate indietro, ma ricorda che dobbiamo prendere dei mercenari Siamo neguati, da dove? A tiro, crebio Ho fatto il passo più lungo della gamba No, no, porca miseria Tornate indietro qua Per forza, là c'è un forte, no Quanto vi costano i mercenari qua? 24 al mese No, andiamo un attimo a recuperare la roba là No, 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 no No, 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 no Che cazzo facciamo adesso Adesso mi asfaltano pure quelli Porca miseria Scusate, splittatevi di nuovo Andiamo di mercenari Sì Fa schifo come generale Però andate qua a liberare la città Sono troppi, sono troppi Qua ci pigliano di nuovo tutto Porca miseria Qua ci prendiamo anche l'attrito No, dobbiamo tornare indietro Dobbiamo tornare indietro No Questi voglio Forse tra uno e l'altro Non riusciamo a fare qualcosa Dategli un generale Un po' che tiro più decente Questo vai No, 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 no Ma porca miseria Me li asfaltano di brutto Non hanno morale Non ci arriveranno mai in tempo Me li piallano subito Quanti soldi buttati nel Water E adesso mi piallano anche gli altri Ah no, invece no Forse no Verde Per il generale super power Ma no, è una cavolata No, me li piallano fortissimo No, guarda il morale Come cala Altri mercenari Per forza Non possiamo permetterci di perderla Perché non recuperano morale questi 0,32 al mese Ci vogliono 10 mesi Scusate, andate in su Unitevi un attimo Non possono essere uniti Perché sono Perché sono i mercenari di mezzo Qua come è il forte Se lo stanno ripigliando di brutto Scusate, allora Portiamo le navi qua Ehi Ah, ok Ma da qua o da là? Boh, adesso vediamo Tutti, tutti, tutti Ok Qua Ci prendiamo una valangata di attrito Adesso ci uccideranno tutti dopo Ci ha preso Gaza Però fintato che ci abbiava il forte Non è troppo un problema Quante truppe hanno? Quante cavole di truppe hanno? 77 corti e non hanno più manpower Adesso abbiamo 108 corti Perché abbiamo anche tutti Le picchiate di fortissimo per piacere Ma deve generare così scarso? Questo fa davvero schifo Lo schifo Cavolo Cavolo Oh, in fretta In fretta In fretta In fretta In fretta Chi sono quei mercenari del manga Che non servono a nulla? È una situazione davvero molto tragica Ok, in realtà abbiamo Ok, abbiamo anche un prigioniero Dove tiro? Vai Dobbiamo ormai Vada Così posso anche smantellarli E fa schifo Dov'è che già lo smantella? Disband unit Dobbiamo pagare 197 Eh Succede la roba qua? No Per fortuna Almeno per ora Pigliate questa tiro Porca miseria Adesso forse la roba là Me la darebbero Sì Però non mi basta più Andiamo in là Scusate Mi costeranno un sacco di soldi Però Dobbiamo zopparli a sto punto Carpet siege Come i bei vecchi tempi Di Europa Universalis Com'è che sta a tiro È a meno 13 Meno 28 Porca miseria È ancora parecchio Una 28 Va a finire che ci Spendiamo una vagarata di soldi Beh scopriremo Come si va in passivo Probabilmente Arriva dall'agente O van via Nel dubbio loro Si sono avvicinati Ottimo E hanno reclutato Parecchia nuova gente Nel dubbio Nel dubbio E succederebbero fin qua Sì Quanto manca Prende la white piece Ah ok No È contestato Ok Quindi si è resettato Il discorso White piece Ok Ok Ah possiamo Far forza Su una white piece Adesso Però no scusa un attimo Vado a vedere le regioni Filistia Qua cos'è Galilea E questa è Macracome Oh ho bisogno di vedere un attimo No simple terrain Bene i prodotti Ci sono dei posti che vi servono Leather Vegetables Wood Wood Questo ci serve Why no Livestock no Eh No Wood Si Horse 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 Risolate ad arrivarsi lassù Dubito In che provincia è quella Ma noi ci sono forti Cosa è un falce Andiamo Senti Non mi Ehm Oh la Dove è stare qua Teo grazie che sono arrivati gli altri Serapieion No Serapieion Una fortezza Mi sembra inutile Può andare bene come male Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene No Mi sa tanto di no E niente È perso No i cavalli non ci arriviamo Abbiamo bisogno almeno di tiro Dai Porca miseria Do marcia forzata a questi Poi vediamo Poi vediamo cosa succede Questi non so se Sì Mandano anche questi Su Sono zero per cento Sono zero per cento Porca miseria Toglio un attimo Toglio un attimo Toglio un attimo Vediamo un attimo dove vanno gli altri Spermi Kaisers Puoi fermarti No Voi potete andarci Puoi togliere marce forzate Sì Dai Ok Gli atti si schiantano Sì Il problema sono gli assedi Nooo Chi è che mi viene a picchiare qua Eh niente Ciavone Dov'è Xoys Xoys potrebbe già avere più senso Vada Eh là c'è un picchiato forte sotto Quante corti hanno ancora? 60 Hanno un sacco di main power Recuperato E sono andati solo di Di cosi probabilmente Di mercenari Ah Gaza Ci hanno picchiato La fine è che ci ripigliano Gaza Ma e gli altri qua Stanno recuperando il morale Ci sta Dai Se riuscissimo a prendere Sto tiro Del manga Perché il legno Cioè i cavalli No è troppo lontano Al discorso È lassù Non ci arriviamo fino alla bruda C'è più che altro ci arriviamo magari ma perdiamo tutto Tutto Cosa stanno facendo Stanno sedendo Gaza ma non hanno abbastanza gente Ma nessuno che dichiara guerra alla friggia in questo momento No scusate Nooo Altra roba da poco Non quelli tosti Dove vanno quelli Non mi piacciono quelli là Alleati Venite dal minumano Magari No No Dai dai Kaiser E niente Siamo arrivati troppo tardi Davvero troppo tardi Dai sto sedio Cioè facciamo far fine la sedia di tiro No 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 Fermi 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 Dove vai Dove vai Dove vai Sta morendo Dottor Dai sì Dovemmo farci Sì 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 Dai Adesso dovremmo star calmi per parecchio tempo Ancora Sì perché vanno via Vabbè stiena la sedia Ah vai via Firmato quello dovremmo prenderla con il forte Una volta che liberiamo il forte Ok non ci sono sedi in giro No Se mi offrono Pelle dalla libia Vada Che ho un po' di soldi non ci fa male Anche se adesso abbiamo bisogno più caldo di manpower Che non ho di soldi Dai siamo a 42 ancora Sì Ce l'abbiamo fatta Tiro Vediamo se riusciamo a calcare un attimo la mano Ok Perché dovrebbero sopravvivere? Puglielo vai Ok vai via da Tiro Dove dobbiamo andare? Ah la bruda Non ci danno tutto questo Però possiamo togliere un po' di roba Così ce l'accetterebbero Abbiamo bisogno di sedere però sta roba qua Abbiamo ancora delle truppe da qualche parte No Abbiamo solo quelle tre là Così poi li faccio tornare indietro Tanto sono praticamente morti Non è che hanno molto speranze Ah marce forzate Devi andare qua Vai fortissimo la bruda Vai fortissimo la bruda Carpet siege come se non ci fossero domani Vai 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 Non me lo accettano ancora Un po' di carpet siege in giro L'ha presa Ottimo Ci sono dei forti qua in giro ancora da prendere No Doveva salire su tantissimo per prendere Ahia Ci arriviamo là? No No non ci arriveremo mai Speriamo che i nostri No non ce la fanno i nostri Però possono comunque tenere duro Chi sono? Altri 5.000 Potremmo farcela Chiudiamola Ma chiudiamo prima che arrivino loro Per cortesia Dai 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 Prima che arrivino gli altri Prima che arrivino poi 15.000 Yes Allora Vediamo un attimo se ci dà adesso fin là No Abbiamo meno 7 Abbiamo meno 7 Perché se non chiedo tiro ma chiedo questo No è uguale Beh Ci vediamo la prossima volta ragazzi Io vi auguro una buona giornata Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.